eccoci qua ragazzi ben ritrovati a tutti ragazzi bentornati qua nella casa del pane balun e che dire e che dire ragazzi il nuovo video del vostro amico nai c'è belli siete ragazzi dobbiamo dobbiamo essere un pizzico obiettivi e capire che che non siamo ancora attrezzati per poter giocarci una champions league da come si dice da protagonisti il nostro percorso è lungo in champions per il momento non possiamo competere con queste squadre bene abbiamo levato la casella zero dalla classifica perché quella non andava bene averla però la squadra quest'anno deve deve puntare ad altri obiettivi e deve cercare di tornare comunque soprattutto in champions league ma puntare ad altri obiettivi in italia e il nostro percorso pian piano lo dobbiamo fare lo sapevamo che era che sarebbe stato difficile perciò ci abbiamo provato testa alta a camminare camminare ragazzi perché è così è così va bene ragazzi fatemi ricordare una cosa mi raccomando iscrivetevi al canale continuate ad iscrivervi continuiamo ad aumentare sempre di più io vi ringrazio non ho non ho più parole anzi più che dirvi grazie non so cosa dire ragazzi attivate la campanella così vi vi aggiorna su tutti i miei nuovi contenuti e bene ragazzi se poi vi piace vi è piaciuto il video solo alla fine mettetemi un bel like bene bene ragazzi allora niente che dire che dire la partita male iniziata male non mi è piaciuto l'approccio non il primo tempo è un disastro un disastro completo pensavo di fare la stessa partita dell'andata perché l'andata abbiamo giocato malissimo sia il primo che il secondo tempo al netto degli episodi ma abbiamo giocato male meritato di perdere e oggi stasera idem primo tempo iniziato malissimo anche perché loro dopo 40 secondi già hanno avuto subito un'occasione fanno gol dopo sei minuti ma noi non l'abbiamo vista mai e come dire non 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 c'è mai stata gara proprio non loro poi ragazzi loro tanta roba pressano alti vengono con tutta la squadra pressarti nella tua metà campo come c'è prendendosi poi tanti rischi perché poi se hai una squadra che palleggia bene riesce a uscire dal primo pressing se importa perché loro sono lì tutti attaccati eh loro ti pressano con mezza squadra nella tua metà campo e l'altra metà è sulla sulla riga di centro campo perciò se tu riesci a saltare il primo pressing gli vai via loro hanno rischiato in quello però gli viene bene ragazzi gli viene bene noi non riuscivamo mai a saltare il primo pressing zero e qualcosina teo ha cercato di fare ma poco poco non mi è piaciuto assolutissimamente il primo tempo eh anche Calabria l'ho visto un po' giù poi non so cosa sia successo perché anche uscito alla fine il primo tempo è stato male gli girava la testa forse era quello la troppa tensione comunque a a Luis Diaz non l'ha mai visto su quella fascia io ragazzi hanno detto che è forte ci ci voglio credere io non lo conoscevo ammetto di non conoscerlo però stasera sembrava Messi Luis Diaz e non dire ne so bene tutto però non mi sembra Messi perciò non ho visto bene Calabria da quel lato non mi è piaciuto neanche Tomori abbastanza disordinato nel primo tempo non mi è piaciuto nessuno ragazzi nessuno mi è piaciuto e sono stati tutti quanti abbastanza insufficienti nel primo tempo fortunatamente le partite si giocano in due tempi hai la possibilità di rientrare negli spogliatoi di resettare di capire cosa hai sbagliato cosa no il mister te lo fa capire e cercare di cambiare l'inerzia della partita così è stato a volte non sempre ci si riesce invece sono entrati in campo nel secondo tempo con un piglio diverso è vero che forse il porto non poteva reggere lo stesso pressing o giocare nella stessa maniera nel secondo tempo come nel primo perché va bene tutto ma non sono dei dei marziani magari loro un pizzico sono arretrati cercavano di giocare un po più sul sul possesso palla sulla perdita di tempo su qualche ripartenza però noi siamo entrati decisamente meglio abbiamo avuto più 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 cazzimma come come si può dire più cazzimma nel secondo tempo però era difficile era difficile perché comunque loro erano chiusi bene in difesa sono chiusi bene c'è quel quel pepe lì che nonostante l'età sa il fatto suo perciò dovevi per cercare di fare gol doveva doveva arrivare da 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 una gioca ma non non potevi farlo con una trama perché poi loro erano abbastanza chiusi no e infatti il gol è arrivato da una punizione rimpallo è entrata dentro la palla basta da lì poi è iniziata poi tutta un'altra partita perché giustamente loro si sono dovuti un pizzico un po non dico scoprire però hanno dovuto iniziare a giocare perché allora sarebbe stato meglio vincere per loro sarebbe stato meglio vincere perciò si è giocato un po di più come rientrato tu nel secondo tempo cioè bene andava bene il fatto che loro si aprissero infatti hai creato hai creato tante tante non tanto caso di occasioni da gol perché poi quelle no però tante tante potenziali occasioni poi è venuto a mancare l'ultimo passaggio o anche quando crunic ha innescato teo hernandez che dove ha fatto gol libera che tu era in fuorigioco matteo è scattato giusto coi tempi giusti e crunic che che ha il ha collegato il cervello con la gamba alla velocità di un bradipo e praticamente quando l'ha visto scattare a il pensiero al piede è arrivato tipo dopo 40 minuti lui era già arrivato a casa sua li devi darla subito li devi dare come come lo vedi partire ma anche prima che lui parta perché tanto lo sai che parte se il tuo se è un tuo compagno sai che lui parte quando in quel momento tu la devi dare e quelle gol quelle gol perché poi dopo il gol hai fatto però è stato perciò abbiamo creato tante possibili tante potenziali attuazioni dove per poter fare gol comunque siamo entrati decisamente meglio che dice la partita è questa è questa sostanzialmente noi siamo questi stiamo giocando un grande campione inizio di campionato al netto degli episodi la nostra champions league e insufficiente ma sinceramente abbiamo abbiamo preso anche un girona abbastanza tosto è perché con le tante squadre che ci sono in giro dallo sheriff al bruges cioè te ne potevano capitare tante a noi ce ne sono capitate comunque atletico madrid liverpool che sono una categoria proprio che non si può vedere e il porto però il porto comunque è una squadra che gioca la champions league da 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 qualche anno c'è sa il fatto suo c'è con sei sa poi l'anno scorso ragazzi il porto ha eliminato la juventus perciò non era era un girone difficile noi mancavamo da tanti anni perciò il nostro percorso è totalmente diverso noi quest'anno dobbiamo pensare lì dobbiamo pensare al campionato ragazzi che siamo belli spediti perciò va bene oggi pareggino sì se veniva la vittoria però sai cosa ragazzi io poi si va sempre in campo per vincere però poi se se oggi tu avresti vinto poi il tarlo di di buttarti tutto sull'atletico per cercare di e magari poi dopo boh non lo so io a sto punto il punticino giusto per non rimanere a razziere bene così io lo dico adesso è a partita a bocce ferme perché poi durante la partita io voglio sempre vincere perciò boh secondo me bene bene e onoriamo continuiamo a onorare il nostro cammino in centro e sulla prossima partita giocheremo con l'atletico madrid poi in casa con liverpool per chiudere e cerchiamo di chiuderla in al meglio ecco cerchiamo di chiudere al meglio questa partita o viceversa o forse prima in casa con live vabbè comunque chiudiamo la testa alta se se proprio è meglio arrivare quarti così leviamoci dalle palle dell'europa league ma lo dico proprio con tutta sincerità so che tanti non lo dicono non lo vogliono dire non possono dire io lo dico proprio con tutta sincerità fuori dalle palle dall'europa league che non si può vedere andiamo in campionato e via che secondo me è quello che noi quest'anno è nelle nostre possibilità bene ragazzi niente io vado a vedere l'inter ci vediamo più tardi così commenteremo anche la partita dell'inter speriamo in bene per i cugini speriamo che di fare una partita bella bella tosta così magari rimane anche un po' stancucci per il derby adesso a parte a parte gli scherzi io sono abbastanza sportivo però perciò preferisco sempre che le squadre italiane vadano avanti perciò non dico che tifo inter ma non sono lì a gufare per la sconfitta detto questo ragazzi vi auguro una buona serata una buona partita ci vediamo dopo per commentarla se vi è piaciuto il video un bel like se no come dico sempre nei commenti scrivetelo che così almeno ci possiamo sempre migliorare come dico sempre io ragazzi ciao